E' stata accolta la richiesta di scarcerazione del sedicenne, membro della baby gang a famiglia Montana, finito in manette una settimana fa. Il ragazzo sarà così sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Il giovane, nel corso dell'interrogatorio di garanzia di fronte al GIP del Tribunale dei Minori di Firenze, in videocollegamento dal carcere minorile, aveva ammesso molti degli episodi contestati, confermando però di essersi allontanato dalla banda dopo il fidanzamento. Tramite il proprio legale aveva poi avanzato la richiesta di scarcerazione e l'applicazione della misura dei domiciliari per poter concludere l'anno scolastico. Il PM aveva chiesto invece che il giovane retino fosse trasferito in comunità e non rimandato a casa. Il sedicenne adesso potrà uscire soltanto per andare a scuola e per i colloqui con gli assistenti sociali. L'indagine della squadra mobile della Polizia Municipale aveva portato all'emissione di nove misure cautelari, sei in carcere minorile e tre in comunità, l'associazione a delinquere, rapine e lesioni, alcune delle accuse di cui dovranno rispondere i giovani.